Non sarebbe male La cospicina è a quest'ora Non sarebbe male Esatto Chiaro un passo in poi di entrare in campo e uccidere Non sapevo che male Me la chiedo quattro volte come si doveva fare Vuol dire che là non si sentiva più Concorrente, dammi la percorso Grazie a tutti